Ciao a tutti, volevo dedicarvi alcuni momenti di lettura. Per il mio corso di lettura ad alta voce una componente importante è quella effettivamente dell'espressività e anche della caratterizzazione, soprattutto quando leggo per i bambini. Io utilizzo moltissimo il corpo, l'espressione facciale, sono esagerate anche, è vero, sono molto teatrale per questo che non mi amo molto in video. Però così vi dedico alcune piccole letture di modo che possiate cogliere quelli che possono essere dei caratteri e le caratteristiche per una buona lettura. Metto gli occhiali perché oramai ho una certa età e non vedo più. La prima storia che vi racconto è la bugia della iena, tratto dalle fiabe dell'Africa Nera. Molto tempo fa una iena passeggiava nella foresta dei Baobab. Girando intorno a un formichiere, vide il cadavere di una gazzella. Non volendo dividere con nessuno questa preda, capitategli come per miracolo, la trasportò in un prato d'erba alta per divorarsela in santa pace per conto suo. Ma aveva appena spalancato la bocca quando vide sopraggiungere le sue sorelle. Subito nascose la gazzella e corse loro incontro. Per tenerle alla larga del suo bottino, si mise a inventare fandonie e le incitò ad andare all'ingresso del villaggio. E laggiù c'è stata una moria che ha decimato i greggi di pecore e gli uomini hanno accatastato in cadaveri in una fossa a cielo aperto. Una vera cuccagna, ve lo giuro, è vero, l'ho visto coi miei occhi. Meno male che vi ho incontrate, stavo appunto cercandovi per avvertirvi. Seduta stante, le iene fameliche corsero verso il villaggio, sollevando un gran polverone. Ma a quel punto alla iena venne un dubbio. E se fosse vero quello che ho detto? Magari ci sono anche più animali morti di quello che mi sono immaginata. Pensò. Istantaneamente abbandonò la sua gazzella e corse dietro alle sue sorelle. Intanto uno sciacallo, che per caso passava da quelle parti, vide il corpo della gazzella abbandonata. Quasi non credeva ai suoi occhi per quella fortuna inaspettata. La ferrò con i denti e se la portò via. Quello dopo è La sconfitta del giaguaro. Qui siamo in America. Piccoli racconti di animali in America e di Tony Wolf. Tutti sanno che quando nella preteria americana si incontra una palla tutta coperta di squame, è meglio non prenderla a pedate, perché non è una vera palla, ma un armadillo, che potrebbe offendersi. Lo sanno tutti, forse, ma non lo sapeva certamente un giovane giaguaro che, annusando l'aria, aveva sentito un buono odore di carne e già pregustava il momento in cui avrebbe catturato la sua preda. Ma quale preda? Non si vedeva proprio nulla all'orizzonte. Deve essere in quella radura, pensò il piccolo giaguaro. Ma la radura era completamente deserta. Eppure qualcosa ci deve essere. Sento ancora l'odore. Aveva davvero l'aria di un mistero, quello in cui si era imbattuto quel giorno. C'era un po' di terra smossa proprio davanti a lui, ma il giaguaro non immaginò certo che gli armadilli avessero scavato un rifugio improvvisato lì sotto. Evitò anche di mettere la zampa sulla palla fatta di scaglie che stava lì vicino. I giaguari non sanno giocare a calcio, il piccolo predatore si allontanò deluso. Non aveva capito che quella strana palla era in realtà papà armadillo e che lì accanto c'erano i suoi piccoli, nascosti sotto la terra smossa. Quando il piccolo giaguaro se ne fu andato, l'armadillo si srotolò piano piano, mise fuori gli occhietti furbi e tirò un bel respiro di sollievo. Via libero, ragazzi, via libero, disse alla sua famigliola, più incuriosita che spaventata. Era il segnale di scampato pericolo. Ciao, grazie.